Cristian Galano è pronto a vestirsi di biancazzurro. Un corteggiamento lungo che parte da lontano perché su quello che viene chiamato il Robben delle Puglie, il Delfino aveva puntato il mirino già da diverse stagioni, ma le strade non si sono mai incontrate, visto che dopo le stagioni al Bari il talento originario di Foggia si era casato a Vicenza nel 2015 per poi fare ritorno ancora a Bari nel gennaio 2017. Il Pescara si era interessato a Galano anche un anno fa, ma il giocatore aveva poi firmato per il Parma ed era stato girato in prestito al Foggia. Ora il matrimonio tra il Pescara e Galano, che in questi giorni è in vacanza alle Maldive, è pronto ad essere celebrato, nonostante l'inserimento in extremis dell'Ascoli. Il giocatore arriverà dal Parma a titolo definitivo e firmerà un contratto di tre anni. Nell'operazione, come è emerso negli ultimi giorni, saranno inseriti due primavera, l'attaccante bulgaro Alexander Kirilov, che andrà subito in Emilia, e il difensore Andrea Marafini, che resterà in prestito al Pescara. L'asse tra Pescara e Parma resta caldo, i biancazzurri hanno tenuto aperta un'altra via, quella dell'attaccante Matteo Brunori Sandri ad Arezzo in prestito lo scorso anno, qualora non si fosse andato in chiusura con Galano. Mentre è al momento in stand-by, come ha fatto intendere ai nostri microfoni il presidente Daniele Sebastiani, la cessione di Frank Canuté. Parma, che resta tra le potenziali pretendenti di Gaston Brugman, ma anche in questo caso risuonano le parole del patron biancazzurro. Finora sul capitano del Pescara tante chiacchiere e voci, ma di offerte concrete e dell'entità richiesta dal Delfino, non sono arrivate sul tavolo di Sebastiani, che chiede almeno 3 milioni di euro. Ma il mercato è lungo e si capirà se alla fine ci sarà un club che affonderà decisamente il colpo, avendo individuato, l'entourage del Delfino, il nome dell'eventuale successore, Luca Palmiero, di proprietà del Napoli. L'arrivo di Galano si aggiunge a quello di Andrea Cisco, ufficiale da ieri. L'ex Patavino arriva dal Sassuolo con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Prende forma il settore degli esterni, con il discorso Andrea Sottilla ancora pendente, ma c'è il gradimento del calciatore per il rinnovo del prestito dalla Fiorentina. Pescara che cerca anche il centro avanti. Si allontana la pista Pietro Iemmello, legata ad una eventuale operazione Benevento Brugman, torna in auge quella di Federico Melchiorri, vecchio pallino di Giorgio Repetto che lo portò in Biancazzurro nel 2014 e che è sotto contratto col Perugia fino a giugno 2020. Lo scorso gennaio il presidente del Perugia, Santo Padre, aveva spazzato via le belleità del Pescara sparando 3 milioni di euro per il trasferimento. Ora le preteste si sono ridotte, ma tirare fuori soldi per un giocatore di 32 anni che ha avuto costanti ricadute in termini di infortuni sembra un azzardo, una scelta contraria alle logiche del club di Daniele Sebastiani.